Buonasera, di Fernando Pessoa, il violinista pazzo. Non fluì dalla strada del nord né dalla via del sud la sua musica selvaggia per la prima volta nel villaggio quel giorno. Egli apparve all'improvviso nel sentiero. Tutti uscirono ad ascoltarlo, all'improvviso se ne andò e in vano sperarono di rivederlo. La sua strana musica infusi in ogni cuore un desiderio di libertà. Non era una melodia e neppure una non melodia. In un luogo molto lontano, in un luogo assai remoto, costretti a vivere, e si sentirono una risposta a questo suono. Risposta a quel desiderio che ognuno ha nel proprio seno, il senso perduto che appertiene alla ricerca dimenticata. La sposa felice capì di essere mal maritata. L'appassionato e contento amante si stancò di amare ancora. La fanciulla ed il ragazzo furono felici d'aver solo sognato. I cuori solitari che erano tristi si sentirono meno soli in qualche luogo. In ogni anima sbocciava il fiore che al tato lascia polvere senza terra. La prima ora dell'anima gemella, quella parte che ci completa. L'ombra che viene a benedire dalle inespresse profondità lambite, la luminosa inquietudine migliore del riposo. Così come venne andò via. Lo sentirono come un mezzo essere. Poi dolcemente si confuse con il silenzio e il ricordo. Il sonno lasciò di nuovo il loro riso. Morì la loro estatica speranza e poco dopo dimenticarono che era passato. Tuttavia, quando la tristezza di vivere, poiché la vita non è voluta, ritorna nell'ora dei sogni col senso della sua freddezza. Improvvisamente ciascuno ricorda, risplendente come la luna nuova dove il sogno vita diventa cenere, la melodia del violinista pazzo.